gioia sport.com il blog dello sport gioiese il blog sportivo della tua città attento spettatore delle partite casalinghe della nuova gioiese il sindaco della città l'avvocato bellofiore sindaco che partita ha visto? Ho visto una partita abbastanza equilibrata due squadre forti in campo sicuramente la GES ha avuto una marcia in più ha avuto nel numero 7 in corigliano in giacco anche nel numero 10 veramente degli elementi senza togliere niente a nessuno anche gli altri sono veramente ben impegnati e sono riusciti bene a esprimere quelle che sono le loro potenzialità in campo sicuramente quella marcia in più che ha fatto fare quel salto di qualità e permettere di vincere la partita e la GES in casa inizia a diventare veramente una squadra forte rappresentativa riesce a tenere il terreno in campo di gioco quindi ritengo che sarà una squadra che darà del filo da torcere nella parte alta della classifica. Tra l'altro a livello statistico sindaco nelle ultime quattro partite la nuova gioiese ha realizzato sei gol e ne ha subito soltanto uno quindi ciò significa che la difesa sia assolutamente rimboccata le maniche e concede pochissimo agli avversari. Sicuramente la squadra messa in campo e l'organizzazione data dal mister è l'organizzazione giusta è il metodo giusto sicuramente il portiere veramente è un gradino più in alto rispetto a tutti quanti gli altri e devo dire quindi che anche la difesa è ben organizzata e sicuramente avranno filo da torcere dai è veramente una bella squadra quest'anno speriamo di continuare le ultime tre partite sono tre vittorie secche bene così forza gioiese. Sindaco per concludere oggi c'era Telespazio TV ha ripreso questa partita in diretta molta visibilità alla partita ma in generale anche alla città di Gioia Tauro è una operazione che può essere ripetuta nel tempo. Me lo auguro e mi auspicio devo dire che Telespazio ha dato un'opportunità grande alla città di Gioia Tauro di visibilità non soltanto a livello regionale ma a livello internazionale perché verrà mandata sul circuito internet in tutto quanto il mondo è un'occasione per Gioia Tauro di far risaltare le positività della stessa città quindi questo binomio sport cultura ritengo che sia essenziale e quindi insieme allo sport che toglie ragazzi dalla strada far vedere anche quelle che sono le positività di questa città ritengo che sia la scelta giusta speriamo che per il futuro si possa continuare su questa fase e che possiamo veramente far capire che Gioia Tauro non è soltanto lotta e comunque criminalità ma ci sono veramente positività che stanno emergendo in tanti campi sicuramente questo dello sport è uno di quelli ma non bisogna tralasciare anche tutti quanti gli altri quindi puntare e continuare su questa strada gioiasport.com il blog dello sport gioiese il blog sportivo della tua città